La Giunta regionale ha confermato con lo stanziamento di circa 112.000 euro per firmare la convenzione tra la Regione e il Comune di Bolognano la grande attenzione per quanto riguarda il comparto del sistema integrato di rifiuti, ma direi del comparto ambientale a 360 gradi. Questo contributo di 112.000 euro sarà utile al Comune di Bolognano per rimuovere rifiuti pericolosi che giacciono lì dal 2019 in maniera evidente ma probabilmente il tutto è partito dal periodo 2012-2014, quindi a breve si potrà riaprire al pubblico la strada di Vianelli Sita in Piano d'Orta che è una frazione importante di Bolognano, quindi ridare vivibilità al nucleo di famiglie che abita in quella zona ridare la possibilità alle macchine di circolare, ma più che altro ridare un segnale importante di salvaguardia della salute dei cittadini di Bolognano. Chiudo dicendo che questo contributo è un ulteriore tassello che conferma la grande volontà che la Regione dal momento del suo insediamento ad oggi ha mostrato nei confronti della bonifica dei siti inquinati, ma direi di tutto ciò che riguarda tutte le eventuali cause che possono creare problemi di inquinamento sui vari territori.